Noi insieme a tutti gli altri cittadini di Santa Margherita, capitanati dal parroco che era il grandissimo Don Elio, Santa Margherita è un quartiere di Sestri Levante, di Cosa Lupara, abbiamo fatto una lunga battaglia che è durata 20 anni e finalmente siamo riusciti ad avere le barriere. Eravate riusciti. Eravamo riusciti ad avere le barriere fondosorbenti. E devo dire che ci è cambiato molto la vita, perché indubbiamente sono servite molto. Il problema è stato che non si sa per quale motivo, sicuramente non per colpa nostra, perché queste barriere qui, oltretutto, erano messe, erano anche abbastanza basse, non erano altissime e potevano essere potenzialmente per colore. Evidentemente qualche d'uno per salvarsi, non si sa bene da che cosa, cosa era successo, in una notte praticamente il lavoro di 20 anni è stato eliminato. Ora sono passati tre anni con rumore, che si sente benissimo, vicino, sia per gli utenti del campeggio fosvolupare e per tutti i cittadini che abitano nella zona.